Quasi 8 milioni di euro per sostenere la promozione del vino nei mercati esteri e extraeuropei e la ristrutturazione dei vigneti. Sono state pubblicate le graduatorie dei progetti approvati nell'ambito della misura promozione sui mercati dei paesi terzi dell'OCM Vino per la campagna 2017-2018 e della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Per la promozione sono stati finanziati 18 progetti regionali e coinvolte 50 aziende vitivinicole, oltre ai due consorsi di tutela maggiormente rappresentativi e alla Camera di Commercio di Pescara. Per la ristrutturazione dei vigneti invece sono state finanziate 435 imprese.